Musica 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 il bambini na affichia pa wedi affichia pa nangkasa nangkasa new hey 2018 ma nangstaw wakala wako bahala wakala 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 kw theo i anni di 2017 il nostro bambini di 4 chiamato che questo è stato ragazza ciò che diciamo e io e ho sentito e oggi ho sentito il nostro paese e il nostro paese il nostro amore l'amore e il nostro amore tra i amore e le mie e le mie è il nostro amore lo iso il nostro amore lo iso e il nostro amore e le mie inserga in cui il nome di tutti i amici e dice ma io succedere dove non c'è nessuno ha succeduto attraverso 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 Mi mpa e bo, a me de ma onese, ira de ma onyede, un saksidu, unye different kora, nengede mko yi, ne viasi nina anso, and benefited from unye ufesa uyi. Na, via tusu mi enu, a me pesa minu uchene se, may you find your place next to someone who will lead you to your dreams. Hey, uhu, eto de bia, uhi ya ubi, aa, ni amena moso, ebe ma niye upesa uyi, ananiye wa jie honwa wabra bomsa upesa uyi, ananiwa ubiya, upese uchono. E, radima sahabu wafoninye, emra wa kwenye, kama unko shishu, anfo mombra, nono ni amediye, awokanya, minuisa minu ukase, wanya experience of power, ni amitwiki nye umapa wapro. Mi amitwiki nye ubebria, amese mekan, minu ukase uyi. Wawamu 2016, ever 2017, mananehu, minishishu e bibia wadiye, minu uchi, mi obia, miferia diye, me mpendi pemuadeye, minyana me mkwami, she mitokro bimu ye maadeye. Na, usuomu se onyami, se opese, oye bibu wa wako ye maa. Wadubefanyoma kitinkiti, kitinkiti bibu ye maa. Na, wadubefanyoma kitinkiti, kitinkiti bibu ye maa. Na, wadubefanyoma, niti se siye ya metiheni. Mabuniye ntia, miye mififee mono, miferi. Hefise niye miye ama meweze, oh, sende nyami isiye siye mi. Fuhu, enyomu e bise, sana 2018, hefise niya challenge biiwa wako, miye baabu, amini. Badia, amesu yane se, se mefa challenge ni miu ubiya, another chapter ni ebbeba. Ebeye diye, ebe, suma chindiye mikuye, suwa hantiyanuna na mpese minu, yedishu yukumukwani se, hefise niya fia yisi miye, unimu niye uba ye. Anansu se, unimu niye uba ye, ba long the way, niyo mabe tu miasisa, e rai di mamma ho dina, se sarai per niente pao di becina, sarai suonan, e ti sa di a to de bina e nio ma pao baia brabo ma, they need to meet jenna, so am, sarai mi chiusura amma se, e rai di mamma ho, the strength to carry on, when things are really, really difficult. Na, di a to su mie insa, amma persa, mi no chana se, may you lend a freedom in letting things go, e nese, awo se nyame, emma ho, ahonwa diya, ube tundi e suya, se, e de bwane beche, e visye ni peyi, ya pe fumi ya honye hon. Nifta, ube tundi ama waw hon, 2018, e nese, wode bwane beche, wode bwane cha, emma diya unswada wakumasono, wonyame upye wakwe ini na ama, enti, diya me kanchi ya wane se, wunye bifunwa, bwomwa diya sa wode beche, emu inyansa wode eche wakuma mube beche, nini na edeni ya reena, suwa humo, e wase, utumifle unu ya no, na wane nekeka mwase, uku no, ujile, awarefu wotiti yo, e bia, na uye la fumo, e se ni te kre makura, e tode bia, na oma fumo humo, enzo zide yino, eto nchen, suwa humo, enunti mempaye anise, e wadebe mafye, so, pifumo 2017 mwa, 2018, misisiraw, jamenka, nye nye 19 na sen, asumujemi, ya denya mi asiswa diya ra 2018, na 2018 idye, minu umye nini na, awasi ya den, yesom, ni etu anamua, ah, e wunye, e wunye, diya da wakuma so, diya da mensuma akuma so, evra denya den, en shenon tuti ya namo siye, na afe, oma enyansan, ah, recipes, si mibe akura guwa amamo, na monso, karate ma ma mwa diya, mo debe shen, enti di ambita tu amamo anisek, soye jidi ni idia, live boldly, through your faith, midi nyamicham, God bless.